di territorio, una risposta che parte attraverso un'alleanza delle istituzioni che nel diffondere informazioni aiutano le persone ad essere sicure ma anche a rendere sicuro il territorio perché una segnalazione è un elemento anche di allarme che noi poi elaboriamo nella misura in cui quel territorio viene attenzionato. Questa immagine di questa signora che noi abbiamo chiamato signora Maria, così ha anche un nome, è l'immagine che vuole rendere l'idea. I nostri anziani sono punti di riferimento, sono attenti, sono importanti e sono svegli e quindi questa loro capacità di guardare è per noi un elemento di forza, quindi non solo un progetto per loro ma anche un progetto che grazie a loro diventa un elemento di sicurezza per tutta la città.